Ciao, sono Jennifer Guerra, sono una giornalista e oggi sono qui per darvi alcuni consigli su come evitare fake news e bufale. Stiamo vivendo un periodo molto complesso della nostra storia, in cui tutti abbiamo a che fare ogni giorno con una enorme quantità di informazioni. Questo rende un po' difficile orientarsi in questo mare di notizie che ci arrivano, però ci sono alcune buone pratiche che possiamo mettere in atto autonomamente per cercare di capire a chi affidarci e a chi no. Il mio primo consiglio è quello di affidarvi sempre alle fonti ufficiali. In questo caso le fonti ufficiali da seguire sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e la Protezione Civile. Solo loro possono garantirvi delle informazioni corrette sul coronavirus. Attenzione però, corretto non significa infallibile, infatti siamo tutti esseri umani e come tutti sbagliamo. Quindi anche quando siamo di fronte a dei nuovi dati, dobbiamo sempre avere un po' di cautela e non lasciarci trasportare dalle emozioni. È molto difficile in questo periodo cercare di essere razionali e distaccati, però anche di fronte a dei dati che possono essere anche parziali o fallaci, dobbiamo cercare di mantenerci il più possibile distaccati e appunto non farci cogliere dai nostri istinti. Il mio secondo consiglio è quello di non credere mai a nulla di ciò che arriva via WhatsApp. Su WhatsApp e su Facebook troverete una grandissima quantità di catene e di altri video che vi promettono di rivelarvi tutta la verità sul coronavirus. Di solito la regola numero uno per le fake news è che chi vi promette di portarvi la verità solitamente vuole solo dirvi un sacco di bugie. Quindi diffidate sempre da quello che vi arriva attraverso delle catene, attraverso dei gruppi o comunque chi vi promette di svelarvi i grandi segreti. Purtroppo è un periodo molto complesso, come ho già detto, e nessuno ha la verità in tasca. Il mio terzo consiglio è quello di capire che in questo momento anche gli esperti e grandi scienziati possono avere delle opinioni divergenti. Questo non significa che se uno dice A e uno dice B per forza non dobbiamo credere né a uno né all'altro. Siamo di fronte a un nuovo virus che necessita di nuovi studi e nuove conoscenze che ovviamente richiedono anche del tempo. Quindi è normale che la comunità scientifica non sia d'accordo al 100% su tutto. Questo ovviamente non significa che siano tutti dei bugiardi oppure che ci vogliano tenere nascosto qualcosa. Semplicemente dobbiamo dare tempo alla scienza di capire quello che è ancora un fenomeno che si sta sviluppando. Quindi quando sentiamo, non lo so, dei virologi parlare in televisione che hanno opinioni divergenti, dobbiamo tenere conto che si tratta di una materia nuova e, come ho già detto prima, nessuno ha la verità in tasca. Dobbiamo cercare di essere un po' comprensivi, anche se è normale in questo momento avere paura o avere incertezza. È del tutto normale. Il mio quarto consiglio è di aspettare sempre le dichiarazioni ufficiali. L'abbiamo visto tutti con il primo decreto, il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualche giornalista irresponsabile ha fatto uscire la bozza del decreto, scatenando grandissimo panico tra le persone. Purtroppo, tra la bozza e la realtà, il vero decreto che alla fine viene firmato, c'è una gran bella differenza. E la bozza non è una legge, non è stata firmata. Quindi è importante aspettare, prima di, appunto, avere delle reazioni improvvise e istintuali, aspettare che le cose siano sempre confermate dalle autorità. In questo caso, anche per agire seguendo le direttive e rispettando la legge, dobbiamo sempre attenerci a quello che è scritto effettivamente nella legge. Quindi, per andare a leggere tutti i decreti che sono stati fatti finora, affidiamoci solo ancora alle fonti ufficiali, quindi al sito del Ministero dell'Interno, che è l'unico sito che ci darà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per superare questa pandemia.